Amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato un altro video col titolo della poesia Il grido dei bambini. Spero che dopo la spedirete a tutti i vostri contatti whatsapp e farete iscrivere tutti i vostri amici al mio canale. Considerazioni sulla poesia. Ho creato questa poesia per evidenziare il grido dei bambini che a volte subiscono la cativeria degli adulti superbi che invece di difenderli, di spingerli a vivere una vita giusta nella fase loro della crescita, li impongono le loro barbarie e il loro cuore duro che li porta a subire le loro angherie, i loro soprusi e le loro sbavature contro i bambini. A volte i bambini si ritrovano in mani sbagliate, in crisi e senza senso della giustizia perché ci vorrebbe qualcuno che li aiuti appunto a superare i problemi invece di essere così trattati male. Vi leggo adesso la poesia dal titolo Il grido dei bambini. Soffrono tanto la cativeria e i soprusi di chi è superbo. I bambini soffrono la barbaria di chi ha il cuore duro. A volte si ritrovano in mani sbagliate in crisi e l'onipotente implorano affinché la giustizia li ascolti. Il grido dei bambini è forte in questo ingiusto mondo. Loro verrebbero solo la vera sorte ed un equilibrato conforto. Il grido dei bambini è potente. Grida giustizia e speranza e ricerca tra la gente. L'amore è vero e tanta pazienza. Grazie.